Potente appara ragazzi, qua Axlodge, oh my god, oggi sono da sole e sono qui a presentarvi questo nuovo video Che ragazzi non doveva essere un video, no, non è vero, doveva essere un altro video Perché infatti questo qua doveva essere uno squad builder che però vedrete domani Vedrete domani perché? Perché c'è una connessione dei scandalosa E dunque io non riesco più a trovare una partita Anzi no, non è che sia colpa mia, è colpa di FIFA E quindi ho detto facciamo un pack opening così che oggi faccio solo un pack opening e domani uno squad builder Anche perché alla fine da un po' di tempo che non vi carico un video Ma perché? Perché ragazzi sto avendo un mazzello da studiare, sto avendo problemi di salute Infatti ora sono in maglietta perché ho studiato a fare l'altro video, o meglio una parte dell'altro video E tecnicamente se non mi sento molto bene ho una freddola della manzana Infatti se sentirete la voce un po' nasale o da zucchero sapete il motivo Comunque ragazzi ho visto che sono usciti i pacchetti da 35.000 crediti Quindi oggi direi di aprirvi così a random Però ecco se magari vi sembra un video, non dico fatto con i piedi, però ho fatto con le mani sul joystick No se non mi sembra magari un video editato benissimo sapete che appunto perché il video, un po' meglio Quello che dovrebbe essere il video giusto uscirà domani Sì domani, no, ve lo faccio dire domani qualunque cosa accada Come vedete il film è così bello che ho scherzato sul pack da 35.000 e mi ha aperto quello da 3.000 Come vedete sono tutti i doppioni, ma che bella cosa Comunque a parte gli scherzi direi di lasciare già un bel mi piace così per supportarvi Così lasciate un bel mi piace, ne voglio 4.000 ragazzi Stiamo andando malissimo chiaramente Io continuiamo a elogiarvi per le vostre qualità O meglio no a parte gli scherzi perché ogni mio video superare i 5.000 mi piace Adesso uno fatica ad arrivare a 4.000 Quindi direi di sfatare questo tabù e di raggiungere solitissimo i 4.000 in questo video Solamente non lo voglio far curare troppo poco però Alla fine un consiglio che vi do non aprite pacchetti ragazzi Ora che non si possono o meglio ora come ora che non si possono comprare crediti in un modo abbastanza easy Non aprite pacchetti assolutamente Infatti non so io cosa sto facendo Però aprirli mi frega e basta E questo mi fa capire che non è neanche conveniente prenderli fra poi Perché veramente ragazzi Senza poter comprare i crediti non credo che riusciate a giocare di tante partite Da potervi comunque permettervi giocatori alti Al con un altro bread Con un alto berezzo E far contemporaneamente i pack opening Quindi non fate come me Non aprirli Io non sapevo che video fare O meglio ripeto Lo sapevo ma ahimè non va la connessione Quindi eccoci qua a presentare questo pack opening Questo video non sembra che non abbia senso Sto sparando vaccate da 2 minuti e 52 secondi Spero che vi piacciono Intanto no Vi voglio far vedere una cosa Ma la farò comunque vedere in un futuro vlog Faccio time perché ho deciso che adesso ne farò un macello Voglio proprio cambiare tipologia di video Farò anche un video apposito Quindi preparatevi ad una rivoluzione Molti di voi saranno contenti Altri no ma guardate un po' che magicata Ho fatto là Ho attaccato dei poster bellissimi Là come potete ben vedere Ora spiego la luce Mi vedete Sono qua E vi farò vedere meglio la camera Perché non li ho attaccati solo lì E ne sto aspettando altri Quindi niente Vi farò vedere tutto in un futuro Prossimo Nuovo tempo italiano Dai Ultimo pacchetto da 35000 Vogliamo trovare Ibra in forma Ed esce fonte Oh my god Poi come vedete i miei capelli Stanno diventando di una lunghezza smisurata A Romic sembrerò Gesù Però fa nulla Però fa nulla Arturo Cagaduro Vidal Ottimo così Abdou L'ho visto all'oratorio questo Era lui Dai Oddio Qui Varga Dai 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 Ninja Dai 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 Giorgino Wijnaldum Ragazzi Questo pacco opening Non ha avuto un senso logico Ha avuto il senso di colmare Il video di un giorno Se la cosa non mi sta bene Frega cazzi Comunque no A parte di scherzi Boh Adesso devo andare Devo studiare un po' di qualcosa Perché alla fine Da studiare si è sempre Trovo lo zoom a pattone Non quello del Chelsea Comunque Detto questo Spero il video vi sia piaciuto Domani per farmi scusare Ve ne farò uscire un altro Se appunto Si risolveranno i problemi Che si sono verificati Detto questo Io vi lascio con l'apertura Di quest'ultimo pacchetto In cui troviamo David Luiz e De Pai La Madonna E vi dico Potenda Poi c'è nel prossimo video Ciao a tutti